Allora, io intanto saluto tutti quelli che sono intervenuti in questo giorno difficile e problematico. Noi abbiamo accolto questo incontro con molto interesse, anche perché io dipendo dalla Direzione Centrale di Riabilitazione e Protesi, che è diretta dal professor Carletti, e per noi questa ricerca è frutto di grande interesse e probabilmente anche di sviluppi di studi futuri. Noi stiamo, come abbiamo detto, noi ci occupiamo di Superabile, di questo sito e di questo contact center per i disabili, che per noi è una delle attività principali per la Direzione e per noi sarebbe particolarmente di orgoglio poter ospitare questo registro di cui parlava la dottoressa Marini. Sarebbe anche un giusto riconoscimento del sito e per gli sviluppi che noi tendiamo a dare a questo sito nel prossimo quadriennio vorremmo parlare, avere un maggiore contatto con l'Europa, avere una possibilità di guardare anche all'Europa sia best practice che come legislazione europea per poter aiutare l'Italia ad adottare alcune cose che l'Italia fa meglio di noi. Anche il registro quindi potrebbe finire sul nostro sito. Chiaramente noi siamo attenti a questa problematica delle lesioni midollari perché abbiamo visto che il 12% delle lesioni sono da infortuni sul lavoro. Sappiamo purtroppo che i nostri infortunati, se vogliamo dirla brutalmente, sono i fortunati di serie A, nel senso che la nostra rendita è una rendita più alta rispetto ad altre situazioni, che noi aiutiamo i nostri disabili da lavoro anche successivamente all'evento lesivo, per cui nel riaccompagnamento a casa, nell'abbattimento delle barriere architettoniche, e quindi sappiamo che loro hanno leggermente qualcosa di più rispetto agli altri disabili che non siano disabili da lavoro. Però vorremmo comunque aiutare le strutture e fare rete e in questa ottica stiamo anche rilanciando dei centri di riabilitazione motoria, stiamo dando uno sviluppo successivo ai nostri centri di fisiochinesi e terapia e probabilmente faremo un accordo qui con la Regione Lazio per aprire un nuovo centro di protesi qui a Roma, appoggiandosi possibilmente a un ospedale, stanno in trattativa in questo momento con il CTO e quindi con l'Alesini, per noi sarebbe anche un rientro a casa, sarebbe importante per noi. Grazie.